carissimi amici e amiche bentornati pur con un po di fatica ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a maria di magdala negli scritti di maria voltorta oggi ci attende un altro un altro step nel nel viaggio verso verso questa lenta conversione di maria di magdala e cominciamo subito da un paragrafo una volta scorsa abbiamo visto lazaro sperare e leggere quella bellissima lettera di marta oggi invece sentiremo marta stessa esprimere a gesù il timore di essersi illusa per le ragioni che vedremo nel paragrafo che stiamo per cominciare a leggere che appunto si intitola la sorella teme di essersi illusa accaldato e polveroso gesù con pietro giovanni rientra nella casa di cafarnao ha appena messo piede nell'orto diretto alla cucina quando il padrone di casa lo chiama familiarmente dicendogli gesù è tornata quella damma di cui ti ho parlato a bezzaida è tornata a cercarti e ho detto di aspettarti e l'ho condotta di sopra nella stanza alta grazie tommaso vado subito se vengono gli altri trattiene lì qui e gesù sarà resto la scala senza neppure levarsi il mantello sulla terrazza dove la scala emette via ferma marcella lancella di marta o maestro nostro la mia padrona è là dentro ti aspetta da tanti giorni dice la donna inginocchiandosi a venerare gesù lo immaginavo vado subito da lei dio ti benedica marcella gesù alza la tenda messa a fare da riparo la luce ancora violenta nonostante che il tramonto sia avanzato e faccia di fuoco l'aria e pare accenda le case bianche di cafarnao con il riverbero rosso di un enorme bracere nella stanza tutta verata e avvolta in un mantello seduta presso una finestra è malta forse guarda uno scorcio di lago in cui si tuffa il muso di un colle boscoso forse non guarda che i suoi pensieri certo è molto assorta tanto da non sentire il lieve scalpiccio di gesù che le si avvicina e a un sussulto quando egli la chiama o maestro grida e scivola in ginocchio a braccia tese come evocando aiuto e poi si curva fino a toccare con la fronte il pavimento e piange ma perché su alzati perché questo grande pianto hai qualche sventura da dirmi sì quale dunque sono stato a betane lo sai sì e l'ho saputo che c'erano buona notizia ora tu piangi che cosa è avvenuto e la forza ad alzarsi facendo la sedere sul sedile messo contro la parete e sedendoci di fronte a lei andiamo levati il velo e il mantello come faccio io devi soffocare lì sotto e poi voglio vedere il viso di questa marta turbata per cacciare tutte le nuvole che lo scurano marta obbedisce piangendo sempre e appare il suo viso arrossato dagli occhi gonfi dunque ti aiuterò io maria ti ha mandato a chiamare ha pianto molto ha voluto sapere molto di me e tu hai pensato che ciò fosse buon segno tanto che per compiere il miracolo hai desiderato me e io sono venuto e ora ora più nulla maestro mi sono sbagliata è la troppo a viva speranza che fa vedere ciò che non c'è ti ho fatto venire per nulla maria è peggio di prima no che dico calunnio mento non è peggio perché non vuole più uomini dintorno è diversa ma è sempre tanto cattiva mi sembra pazza io non la capisco più prima almeno la capivo ora ora che la capisce più e marta piange desolatamente su metti di calma e dimmi cosa fa perché è cattiva uomini dunque non ne vuole più intorno suppongo perciò che viva ritirata in casa e così sì bene ciò è molto bene l'averti desiderata vicina come per essere difesa dalla tentazione sono le tue parole e lo schivare la tentazione inibendosi le colpevoli relazioni o anche semplicemente ciò che potrebbe indurre a colpevoli relazioni è segno di buona volontà dici di sì maestro proprio lo credi che è così ma certo in che allora ti sembra cattiva raccontami cosa fa ecco marta un poco rianimata dalla certezza di gesù parla con più ordine ecco maria da quando sono venuta non è più uscita dalla casa e dal giardino neppure per andare sul lago con la barca e mi ha detto che era sonnotrice che anche prima non usciva quasi dalla pasqua pare che abbia avuto questo inizio questo mutamento però prima della mia venuta ancora venivano persone a trovarla e non sempre lei le respingeva delle volte dava l'ordine che nessuno fosse fatto passare e pareva un ordine dato per sempre poi giungeva per quota riservi presa da un'ira ingiusta se accorrendo lei verso il vestibolo per aver sentito la voce dei visitatori ritrovava già partiti da quando sono venuta io non l'ho fatto più mi ha detto la prima notte e per questo io ho tanto sperato tienimi legami magari ma non mi lasciare più uscire non lasciare più che io veda altri che te e la nutrice perché io sono una malata e voglio guarire ma quelli che vengono da me o che vogliono che io vada da loro sono come degli stagni di febbre mi fanno sempre più ammalare ma sono tanto belli all'apparenza sono tanto fioriti e pieni di canti con frutta d'aspetto piacevole che io non so resistere perché sono una disgraziata una disgraziata sono la tua sorella è una debole marta e c'è chi si approfitta della sua debolezza per farle compiere cose infami alle quali un resto di me non consente l'unico resto che ho ancora della mamma della povera mamma mia e piangeva piangeva e io l'ho fatto questo con dolcezza nelle ore che lei è più ragionevole con fermezza nelle ore che mi sembra una fiera in gambia non si è mai ribellata a me anzi passati i momenti di maggiore tentazione viene a piangere ai miei piedi col capo sul grembo e dice perdonami perdonami e se io le chiedo ma di che sorella tu non mi hai dato dolore lei mi risponde perché poco fa o ieri sera quando tu mi hai detto tu non vai fuori di qui io nel mio cuore ti ho odiata maledetta e ti ho desiderato la morte non fa pena signore ma è pazza forse il suo vizio l'ha resa pazza penso che qualche amante le abbia dato un filtro per rendersela schiava nella lussuria boi ciò desidera salita al cervello no risponde gesù niente filtro niente pazzia è un'altra cosa ma continua dunque con me è rispettuosa e obbediente e anche i servi non la più maltrattati ma però dopo la prima sera non ha più chiesto di sapere nulla di te anzi se io ne parlo devi il discorso salvo poi stare ore e ore sullo scoglio dove il bel vedere a guardare il lago fino ad essere una bacinata e chiedermi ad ogni barca che vede passare ti pare quella dei pescatori galilei non dice mai il tuo nome né quello degli apostoli ma io so che pensa a loro e a te nella barca di pietro e anche capisco che pensa a te perché delle volte alla sera mentre passeggiamo nel giardino oppure attendiamo l'ora del riposo io cucendo lei stando con le mani in mano mi dice così dunque bisogna vivere secondo la dottrina che segui scusate e delle volte piange altre ride come una risata sarcastica da pazza o da demonio altre volte invece si scioglie i capelli sempre così artisticamente acconciati e ne fa due trecce e si mette una delle mie vesti mi viene davanti con delle trecce giù per le spalle o portate sul davanti tutta collata pudica fatta giovinetta dall'ambito dalle trecce e dall'espressione del volto e dice ancora così dunque dovrebbe diventare maria e anche lì delle volte piange baciandosi le sue splendide trecce grosse come braccia lunghe fine ginocchi tutto quell'oro vivo che era la gloria di mia madre e alle volte invece fa quell'orrenda risata oppure mi dice ma piuttosto guarda faccio così e mi levo di mezzo e si annoda le trecce alla gola e stringe fino a divenire paonazza come per potersi strozzare altre volte si capisce quando più forte sente la sua la sua carne ella si compassiona oppure si malmena l'ho trovata che si percoteva ferocemente il seno il grembo e si graffiava la faccia picchiava la testa contro il muro e se io le chiedevo ma perché fai così mi si voltava stravolta feroce dicendo per spezzarmi me le mie viscere la mia testa le cose nocive maledette vanno distrutte mi distruggo e se io le parlo della misericordia divina di te perché ne parlo ne parlo lo stesso di te come se lei fossero più fedele delle tue discevole e ti giuro che delle volte ho ribresso di parlare davanti a lei lei mi risponde per me non ci può essere misericordia ho passato la misura e allora le prendo una furia di disperazione e grida percuotendosi a sangue ma perché perché a me questo mostro che mi dilania che non mi dà pace che mi porta al male con voci di canto e poi mi ci unisce le voci maledicenti del padre della mamma di voi perché anche tu e lazzaro mi maledite e mi maledici israele e me le porta per farmi impazzire io allora quando così dice rispondo ma perché pensi a israele un popolo sempre e non a dio ma posto che non hai pensato prima a calpestare tutto pensa ora a superare tutto e a non curarti altro che di quello che non è mondo sia di dio del padre della madre ed essi non ti maledicono se tu cambi vita ma ti aprono le braccia e lei mi ascolta pensierosa stupita come mi dicessi una favola impossibile e poi piange ma non risponde delle volte ordina invece ai servi vini e droghe e beve e mangia questi cibi artificiosi e spiega per non pensare ora da quando sa che tu sei sul lago dice a me tutte le volte che si accorge che vengo qualche volta vengo anche io e ridendo di quel riso che è un insulto a se stessa termina così almeno l'occhio di dio cadrà anche sulle tani ma io non voglio che venga e ora aspetto a venire quando lei stanca di ira di vini di pianto di tutto dorme spossata anche oggi sono fuggita così in modo di tornare a notte prima che lei si rilesti questa è la mia vita e io non spero più e il pianto non più frenato dal pensiero di dire tutto con ordine e riprende più forte di prima ti ricordi marta cosa ti ho detto una volta maria è una malata tu non lo volevi credere ora lo vedi tu la chiami pazza lei stessa si dice malata di febbri peccaminose io dico in ferma per possesso demoniaco è sempre una malattia e queste incoerenze queste furie questi pianti e desolazioni e aneliti a me sono le fasi del suo male che giunto al momento della guarigione ha le più violente crisi tu fai bene essere buona con lei fai bene essere paziente fai bene a parlarle di me non averne ribrezzo dire il mio nome in sua presenza povera anima della mia maria eppure essa uscita dal padre creatore non dissimile dalle altre dalla tua da quella di lazaro da quelle degli apostoli dei discepoli pure essa è stata inclusa e contemplata fra le anime per cui io mi sono fatto carne per essere redentore anzi per lei più che per te per lazaro apostolo e discepoli sono venuto povera cara anima che soffre della mia maria della mia maria avvelenata con sette veleni oltre che col vereno primo genito e universale della mia maria prigioniera ma lascia che venga a me lascia che respiri il mio respiro che senta la mia voce che incontri il mio sguardo si dice l'etame o povera cara che dei sette demoni ha in sé meno forte quello della superbia ma solo per questo si salverà allora amici il brano è molto lungo non è finito prosegue però è ora di fare una sosta io non ho voluto fare prima perché anche se è molto lungo avrete capito insomma si capisce dalla lettura che non è opportuno fare sosta è proprio fondamentale seguire tutto 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 l'iter no e poi attendere soprattutto la spiegazione che gesù dà a tutte quante le cose che in maniera un po convulsa e come dire caratterizzata da forte apprensività e timore racconta marta no e qui gesù dà la diagnosi il vangelo di luca dirà che stavano tra le sue discepoli maria di magda dalla quale aveva tirato fuori sette demoni ed evidente questi sette demoni quando dice il meno forte quello della superbia sono i demoni dei sette vizi capitali perché sappiate figlioli mei cari che c'è un demonio per ogni tipo di situazione come dire avversa a dio ogni vizio capitale qui gesù ci dice e ciò dice il vangelo prima di maniera al torta c'è un demonio incaricato di soffiare sopra c'è un demone della superbia dell'avarizia della russuria la russuria lo sappiamo chi è il demone della russuria se non lo sapeste è asmodeo ed è uno dei più delinquenti e pericolosi il demone dell'ira il demone dell'invidia il demone dell'accidia il demone della gola ci stanno meglio partire dall'ultima cosa che gesù dice dei sette ha insieme uno forte quello della superbia ma solo per questo si salverà attenzione figlioli mei cari questa è una frase che dobbiamo ricordarcene la superbia è il più spirituale dei vizi capitali sì anche anche l'invidia lo è il resto sono un po' un po' terra terra però proprio perché è il più spirituale le anime molto difficilmente colgono la superbia e la sua pericolosità la superbia è un cancro è per la superbia che si dannano le anime perché una delle manifestazioni della superbia è non volersi riconoscere peccatori bisognosi di perdono e questo paradossalmente a volte è tanto più vivo quanto maggiori si è peccatori e bisognosi di perdono e se questo prevale Dio perdona a chi chiede perdono ma tu glielo devi chiedere perdono devi andare oggi mi sono impazzito mi sto impazzito ho impiegato diverso tempo nella correzione ultima stiamo rivedendo le ultime bozze quelle definitive per dei sette sacramenti e oggi è passata tutta la giornata gran parte di essa poteva correggere il sacramento della penitenza secondo gli spettacolari insegnamenti del concilio di Firenze e del concilio di Trento insomma sto libretto uscirà fuori caruccio perché non è altro che un commento questo libro è stato concepito come una presentazione, un'esposizione, un commento della dottrina del concilio di Firenze e del concilio di Trento dei sette sacramenti che è qualcosa di spettacolare quindi proprio bellissima e quindi mi sono ribeato su tante cose anche andando a vedere quando la Chiesa parlava in un altro modo con quale puntualità con quale chiarezza con quale precisione diceva tante cose ma Dio perdona chi gli chiede perdono e chi è pentito ecco questo racconto di Maria di Magdala scusate di Marta sulle vicende di Maria di Magdala è proprio sintomatico per comprendere il travaglio che accompagna il processo di conversione di un grande peccatore un grande peccatore che a forza di peccati perché guardate che non credo che Maria di Magdala abbia fatto le messe nere o le invocazioni o le evocazioni dei demoni o che qualcuno gli abbia fatto un maleficio o un malocchio cresciuto dentro una famiglia santa con fratelli santi cioè ci stanno delle cause dei possi di possessione lo dicono anche gli esorcisti che sono motivate cioè dalla reiterazione ostinata e pluri ma di orribili peccati cioè non è che se uno fa un peccato diventa posseduto eh ma se uno ne fa diecimila eh insomma insomma c'è questo pericolo e quindi tutto è avanti a ste folie lo dice lei stessa c'è una parte di me quindi aveva cominciato no? e Gesù dice benissimo quindi vedete anche il ruolo della della volontà no? questa aveva cominciato a rientrare in se stessa quindi a cominciare a dare voce alla propria coscienza perché la nostra coscienza c'era la voce ma quella voce può essere soffocata il peccatore è un soffocatore della 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 coscienza per quanto la si soffochi non si spegne mai del tutto ma giace sotto è come se fosse eh le ceneri del dell'araba fenice eh sta lì certo potrebbe da un momento all'altro come l'araba fenice risorgere ma la nostra volontà ha il potere di tenerla soffocata purtroppo quindi aveva fatto degli step e aveva anche avuto l'umiltà di chiedere legami legami e nei momenti diciamo così critici perché probabilmente eh sentiva non soltanto la tentazione ma prima diceva non fate entrare nessuno poi i servi dicevano a quello Maria non può vedere nessuno uno scende e li gonfia l'ha detto prima no? quindi questi atteggiamenti diciamo così contraddittorino perché proprio tirata tra la voce della coscienza perché vedete questo è un altro punto importante su cui riflettere per la nostra edificazione ecco perché non bisogna mettersi cioè non bisogna fare i peccati non bisogna consegnarsi nelle mani del diavolo perché stare nelle mani del diavolo è come diventare tossicodipendenti oppure cadere nelle mani degli strozzini oppure diventare mafioso o camorrista o satanista o massone cioè non si esce in maniera indolore non è che ci sa beh che mi importa tanto poi ci ripenso mi confesso è finita no non funziona così non funziona affatto così il diavolo ti presenta il conto il diavolo non molla certo se la volontà è tenace è ferma e risoluta il diavolo perderà ma andate a chiedere a un tossicodipendente cioè io ho conosciuto persone tossicodipendenti che sono si sono disintossicate senza andare in comunità e senza manco gli ausili del metadone ma devi vedere che c'è cioè hanno passato le pene dell'inferno o anche i fumatori è la stessa cosa no i fumatori è la stessa cosa cioè chi ha fumato sa bene chi ha fumato fumato no come si fuma una sigaretta ogni tanto se tu vuoi smettere di fumare tu devi stare un mese in croce devi stare se decidi e ti stai buono dici bene starò un mese in croce tu smetti ma non è tanto facile stai sotto k stai sotto vincoli i vincoli si possono spezzare certo ma ci vuole primo l'aiuto della grazia preveniente e coadiuvante si dice e secondo devi sputa sangue e il nostro signore questa cosa non solo non te la risparmia ma vuole che tu la vivi perché sapete che cosa ci dice dall'altra parte per quanto noi possiamo essere non perfettamente consapevoli tutto quello che volete io penso presumo poi non ci sto nella mente dell'altissimo no però sapete quando noi riflettiamo meditiamo ragioniamo anche sui dati che vengono dalla dalla teologia dal magistero dalla morale dagli scritti dei santi da queste cose qualche supposizione possiamo farla no perché il nostro signore non te lo risparmia questo travaglio a tratti veramente impegnativo ed è un eufemismo dire impegnativo perché perché ti potrebbe dire quando sei morto dico scusa figlio mio io ho mai dato a qualcuno il permesso di peccare te l'ha ordinato il medico di andarti a infognare in quel modo di andarti a consegnare nelle mani di colui che ti odia quando io sono morto in croce per te e ti ho dato una via a Maria di Magdala gli aveva anche dato una buona educazione gli aveva dato una santa mamma non è da tutti avere una santa mamma quindi adesso non voglio sostituirmi a Gesù no ma la caduta di Maria di Magdala se c'era due fratelli santi vuol dire che chi lo sa che cosa c'era avuto che gli fruglava per la testa però di per sé apparentemente si tratta di una situazione in cui come dire le circostanze attenuanti salvo quelle occulte ignote da quello che si chiedava di capire non sono così tante quindi c'è stata una sfrontatezza no cioè glielo dice poi Marta no dice oh e senti un po' e se tu sei stata così ardita e andassi da mezzo mondo per degradarti come ti sei degradata no e ma cerca di essere forte e vedi anche di infischiartene del mondo e cerca di metterti davanti al Signore e di fare le cose per lui glielo dice ecco c'è quindi un travaglio che si spiega secondo Gesù con queste diciamo possessioni colpevoli ci sono alcuni casi per esempio di anime che soffrono tanto a causa del diavolo alcune poverine sono completamente innocenti sono eh cioè alcune specialmente quando ci sono cose ancestrali atatiche perché questo è un mondo veramente io non ci capisco ho letto qualcosa ma non sono assolutamente in grado questo lo dico perché poi questi video vanno in giro poi vanno le telefonate che si pensano che allora io non sono in grado assolutamente perché non ho né l'esperienza adeguata né la competenza adeguata sì ho letto qualcosa ma non sono cose che rimangono a livello molto molto teorico cioè alcune cose cioè non c'ho doni qualcuno si pensa ma è un carismatico no io non ho nessunissimo dono se non quello del mio povero cervelletto che funziona sempre peggio e e delle cose che cerco di apprendere e continuare ad apprendere e imparare da chi? dalle fonti che ritengo autorevoli dal magistrato della chiesa dai santi e da queste cose che ritengo autorevoli basta ecco quindi può succedere che ci sono alcune situazioni in cui c'è veramente uno stato di 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 incolpevolezza sono attestati per esempio quella ha ricevuto gli esorcismi penso che molti lo sanno Santa Gemma Calgani cioè che anima cioè è stata tra le anime più pure che abbia conosciuto la storia della della chiesa sicuramente sta almeno nella top 20 cioè io presumo certo non conosco tutte le sante e le vergini però veramente Santa Gemma era proprio era proprio una una gemma di di purezza no? ecco però ci sono altre realtà in cui la possessione in qualche modo è colpevole quantomeno in causa nel senso che eh si uno diceva un maleficio una messa nera contro eh però quella per ordinariamente per per andarti ad attecchire in questo modo che suppone che tu non abbia avuto una vita non stia in grazia capite se io presumo dalla mia poca esperienza come dire esperienza dalla mia poca conoscenza che ho è che se fanno le messe nere contro con tu sacerdote che cerca di fare bene le messe bianche di vivere in grazia che dice il rosario di stare di starci con con la testa di non mettersi in situazioni brutte io non credo che il sacerdote diventi indemoniato potrà ricevere subire qualche malessere qualche qualche situazione diciamo così di 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 fastidio ma oh poi ci sono i misteri dell'altissimo mi rifiuto di credere che possa ok però quindi ci sono ordinariamente a quanto ne so perché succede una cosa di questo genere ci deve essere stata almeno una perdita della vita di grazia padre Amor diceva sono aumentate le possessioni perché è aumentata la superstizione e la diminuità la fede ok ma ci sono delle possessioni anche di questo ne parlano gli esorcisti e padre Amor in primi causate dal moltiplicarsi dei peccati si diventa una sorta di demoni incarnati quindi l'umiltà di Maria di Magdala che chiede aiuto alla sorella e che anche vedete sotto sotto la sferza sotto l'ispirazione no così Dio volgerà lo sguardo sull'etame è certamente il modo sarcastico con cui quella frase è detta non è certamente nobilitante però si chiama l'etame e lo era tra l'altro purtroppo in quel momento lo era avete visto poi le prove c'è la scenetta quando va si mette gli abiti della sorella la vede cucire si va a mettere gli abiti casti qui mi fa ripensare a tante cose che ho anche visto io no quando qualcuno magari si affaccia in ambienti dove ci sono persone che hanno già fatto un percorso di conversione e si mette paura dice ma ma che se mi converto devo fare così pure io vabbè penso che basti come considerazione adesso andiamo a vedere la la seconda parte dove Gesù ha ulteriori santi consigli a Marta per gestire la situazione allora leggo l'ultimo capoverso così ci ricolleghiamo al testo rientriamo in carreggiata o povera cara che dei sette demoni ha in sé meno forte quello della superbia ma solo per questo si salverà interviene Marta ma se poi uscendo trova qualcuno che la devia di nuovo verso il vizio lei stessa lo teme e sempre lo temerà ora che è giunta ad avere nausea del vizio ma non temere quando un'anima ha già questo desiderio di venire al bene ascoltato e ne è trattenuta solo dal nemico diabolico che sa di perdere la preda e dal nemico personale dell'io attenzione che c'è sempre pure lui che ragiona ancora umanamente e giudica se stesso umanamente applicando a Dio il suo giudizio per impedire allo spirito di dominare l'io umano quando dice no per me ormai è la fine allora quell'anima è già forte contro gli assalti del vizio e dei viziosi ha trovato la stella polare e non devia più e ugualmente non dirle più e non hai pensato a Dio e invece pensi a Israele è un rimprovero implicito non lo fare è una uscita dalle fiamme è tutta una piaga non la sfiorare altro che combalzami di dolcezza di perdono e di speranza lascia la libera di venire adesso sentite guardate c'è queste cose dobbiamo ricordarcele vi prego anzi devi dirle quando conti di venire ma non dirle vieni con me vedete qui penso per esempio a le mogli un po' troppo ansiose che per carità comprensibilissimi o le mamme anche un po' troppo ansiose per i figli che costringono quasi i mariti o i figli o andare a messa o peggio ancora andarsi a confessare io lo capisco comprendo lo stato di dolore e di sofferenza che può avere una sposa o una mamma che vede un figlio o un marito lontani ma non si può forzarla io mi sono trovato in situazioni imbarazzantissime perché se tu una persona la forza è di andarsi a confessare quella poi non si confessa cioè si corre il rischio di trovarsi una situazione imbarazzantissima purtroppo non dirle vieni con me lascia che decida lei vedete il modo con cui Dio ci porta a sé certo ci attira ci chiama ci invita ci spinge senza come dire spintonarci non conto è spintare non conto è spintonare ma ci lascia liberi non dirle vieni con me addirittura anzi se riesci a capire che vieni tu non venire torna indietro attendile a casa sentite che che roba cioè questa questa riservatezza questa discrezione questa soprannaturalità quella è un'anima che cioè il pudore delle anime io guardate se crescendo sto diventando veramente proprio oltremodo allergico fino a diventare veramente poi perentorio nel dire certe cose quando vedo le intrusioni le violazioni della privacy e della riservatezza come dire ordinaria e non ordinaria come dire comune o spirituale cioè è un modus è uno stile bello soprannaturale divino attendile a casa ti verrà spezzata dalla misericordia perché io le devo levare la malvagia forza che ora la tiene e per qualche ora sarà come una svenata una a cui un medico ha levato le ossa ma poi sarà meglio sarà sbalordita avrà un grande bisogno di carezze e di silenzio assistila come fossi il suo secondo angelo custode ma senza farti sentire imparassimo tutti quanti me per primo ad agire in questo modo a fare così e se la vedrai piangere e lasciala piangere quando io piangere qualcuno ci viene la nevrosi perché piangi lascialo ci stanno dei pianti che sono santi che sono salutari Dio vuole che li piangiamo beati gli afflitti perché saranno consolati Dio non vuole piagnistei d'accordo puoi piangere per ciò che non si deve piangere ma i pianti santi Dio li vuole come pianto di pentimento Dio lo vuole come e se la vedrai farsi domande lasciala fare e se la vedrai sorridere poi farsi seria e poi sorridere con un sorriso mutato con un occhio mutato con un volto mutato non farle domande non metterla in soggezione soffre più ora nell'ascendere che quando discesa e sentite la grande parola di Gesù e deve fare da sé come da sé ha fatto quando è discesa siamo noi sei tu sono io cioè in questo processo in un processo nel processo della conversazione così come quello della discesa noi stiamo veramente siamo noi ci sei tu e c'è Dio si gioca a due la partita non è un gioco di squadra non ha sopportato allora i vostri sguardi sulla sua discesa perché nei vostri occhi era il rinpovero ma ora non può nella sua vergogna finalmente svegliata sopportare il vostro sguardo allora era forte perché aveva in sé Satana che era il padrone e la mala forza che la leggeva e poteva sfidare il mondo eppure non ha potuto essere vista da voi nel suo peccare ora non ha più Satana per padrone egli è ospite in lei ancora ma è già tenuto alla gola sentite dal volere di Maria Satana passato da ospite da padrone a ospite perché tenuto alla gola dal volere di Maria tantissima roba il diavolo ha il terrore della nostra volontà pace in terra agli uomini di buona volontà fu detto lui ha il terrore lo sa che siamo liberi sì è vero chi commette il peccato è schiavo del peccato ma in che senso nel senso che abbiamo visto nel senso che uscirne è un'impresa ci vuole la grazia preveniente e coadiuvante tra l'altro non uscirai mai da solo ma siccome Dio la grazia preveniente e coadiuvante ce la darà specialmente se qualcuno prega per noi se la volontà sostenuta si muove Satana è morto se ne deve andare perderà il potere e lui lo sa quindi egli è ospite in lei ancora ma è già tenuto alla gola dal volere di Maria dal volere di Maria e non ha ancora me e non ha ancora me perciò è troppo debole non può sostenere neppure la carezza dei tuoi occhi fraterni sulla sua confessione al suo Salvatore tutta la sua energia è volta e consumata a tenere alla gola il settemplice demone quindi abbiamo capito la grande lotta stava lottando per tenere alla gola gli assalti furiosi di tutti questi demoni stramaledetti però per tutto il resto ella è in difesa è nuda ma io la rivestirò e la fortificherò va in pace Marta e domani contatto dille che io parlerò sul torrente della fonte qui a Cafarnao dopo il vespero va in pace vai in pace ti benedico Marta è perplessa ancora non cadere in incredulità Marta le dice Gesù che lo osserva no signore ma penso oh dammi qualche cosa che io possa dare a Maria per darle un poco di forza soffre tanto e io ho tanta paura che non riesco a trionfare sul demonio sei una bambina a me e te Maria può mai non riuscire però vieni e tieni dammi questa mano che non ha mai peccato che ha saputo essere dolce misericordiosa tiva pia ha sempre fatto gesti di amore e di preghiera non si è impoltrita nell'ozio non si è corrotta mai ecco la tengo fra le mie per farla più santa ancora alzala contro il demonio ed esso non la sopporterà e prendi questa mia cintura non te ne separare mai e tutte le volte che la vidrai di a te stessa più forte di questa cintura di Gesù è il potere di Gesù e con esso tutto si vince demoni e mostri non devo temere sei contenta ora? la mia pace sia con te va tranquilla Marta lo vede ed esce Gesù sorride mentre la vede riprendere posto nel carro che Marcella ha fatto vendere la porta e andare verso Magdala e adesso stiamo dinanzi a un bel dilemma perché stiamo a 45 minuti di catechesi sarebbe da fare un sondaggio volante con chi sta sentendo la diretta perché adesso c'è la parabola della pecorella smarrita quindi la lettura dovremo fare in tempo ci azzardiamo cioè quello che Gesù aveva appena predetto domani sera parlerò dopo il vespero e lì ci va Maria di Magda a sentire Gesù parla per lei non come aveva parlato quando doveva accusarla farle prendere coscienza della gravità dei suoi peccati ma questa volta la carezza con la misericordia vabbè andiamo per lei la parabola della pecorella smarrita Gesù parla alle folle montato sul margine alborato di un torrentello parla a molta gente sparsa su un campo che ha il grano segato e mostra l'aspetto desolante delle stocche arze è sera il crepuscolo scende ma già sale la luna una bella e chiara sera di prima estate dei greggi tornano lovine e il din don dei campanacci si mescola ad un grande cantare di grillo cicale un grande cri 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 Gesù prende lo spunto dalle mandri che passano e dice il padre vostro è come un pastore sollecito che fa il pastore buono cerca pascoli buoni per le sue pecorelle quelli dove non sono cicute tossici ma dolci trifogli aromatiche mentucce e amari ma salutiferi radicchi cerca là dove insieme al cibo sia fresco e puro l'uscello e ombria di piante che non regnino e non regnino aspidi fra il verde delle zone non si cura di preferire i pascoli più grassi perché sa che ne si è facile trovare insidia di colubri e di erbe nocive ma dà le sue preferenze ai pascoli montani dove le rugiate fa mondo e fresca l'erbetta ma il sole la pulisce dai rettili la dove l'aria è mossa e buona e non pesante e mal sana come quella di pianura il buon pastore osserva una per una le sue pecore le cura se sono malate le medica se ferite a quella che si ammalerebbe per troppo in gordigio di cibo dalla voce all'altra che prenderebbe un male per rimanere troppo all'umido o troppo al sole dice di venire in un altro luogo e se una svogliata non mangia egli ricerca gli stelle acidoli aromatici a risvegliare l'appetito e gli riporge di sua mano parlandole come una persona amica così fa il padre buono che è nei cieli con i suoi figli erranti sulla terra il suo amore è la verga che li raduna la sua voce la guida i suoi pascoli la sua legge il suo vile il cielo ma ecco che una pecorella lo lascia quanto egli l'amava era giovane pura candida come nuvola in cielo d'aprile il pastore la guardava con tanto amore pensando a quanto bene poteva ad essa fare e quanto amore riceverne ed essa lo abbandona è passato lungo la via che costeggia il pascolo un tentatore non ha la casacca austera ma veste una veste di mille colore non ha cintura di pelle con lascia e coltello pendenti ma ha una cintura d'oro da cui prendono suonagli argentini melodiosi come voci di signolo e fiale di essenze che nebriano non ha bordone come il pastore buono col quale vado a difendere le pecore e se non basta il bordone egli è pronto a difendere con l'ascia e coltello e anche con la vita ma questo tentatore che passa a fare la mano un turribolo brillante di gemme da cui sale un fumo che allezzo e profumo insieme ma che sbalondisce così come lo sfaccettio dei gioielli oh quanto falsi abbacina egli va cantando e lascia cadere emanate di un sale che brilla sulla strada oscura novantanue pecore guardano e stanno la centesima la più giovane e cala fa un balzo e scompare dietro al tentatore il pastore la chiama ma lei non torna va più veloce del vento per raggiungere da colui che è passato e per sorreggersi nella corsa gusta di quel sale che le scende dentro e la brucia di un delirio strano per cui anela ad acque fonde e verdi in un cupo di selve e nelle selve dietro al tentatore si sprofonda e penetra e sale e scende e cade una due tre volte e una due tre volte sente intorno al suo collo l'abbraccio viscido dei rettili e volendo bere acque inquinate e volendo nutrirsi morde erbe lucide di bave schifose che fa intanto il pastore buono chiude al sicuro le novantanove fedeli e poi si pone in cammino e non resta di andare sinché non trova tracce della perdura perché ella non torna a lui che pure affida ai venti le sue parole di richiamo quindi egli va da lei e la vede da lontano ebra fra le spire dei rettili tanto ebra che non sente la nostalgia del volto che la ama e lo deride e la rivede colpevole di essere penetrata ladra nell'altrui dimora tanto colpevole che non osa più guardarlo eppure il pastore non si stanca e va la cerca la cerca la segue l'incalza piangendo sulle tracce della perduta l'embidivello cioè l'embidianima tracce di sangue delitti diversi l'ordure prove della sua lussuria egli va e la raggiunge adesso speriamo che riusciamo a leggere senza senza reazioni eh questo è un passaggio un po' un po' commovente ah ti ho trovato diretta ti ho raggiunto quanto cammino ho fatto per te per riportarti all'ovile non chinare la fronte avvilita il tuo peccato è sepolto nel mio cuore nessuno fuorché io che ti amo lo conoscerai io ti difenderò dalle critiche altrui ti coprirò con la mia persona per farti scudo contro le pietre degli accusatori vieni sei ferita oh mostrami le tue ferite le conosco ma voglio che tu me le mostri con la confidenza che avevi quando eri pura e guardavi a me tuo pastore Dio con occhio innocente eccole hanno tutte un nome come sono profonde chi te le ha fatte tanto profonde queste nel fondo del tuo cuore il tentatore lo so è lui che non abbordone né ascia ma che colpisce più a fondo col suo morso avvenenato e dietro a lui colpiscono gioielli falsi del suo turibolo coloro che ti hanno sedotta con loro brillare e chiarano zolfi d'inferno tratti alla luce per arderti il cuore guarda quante ferite quanto bello lacerato quanto sangue quanti ruoli oh povera piccola anima illusa ma dimmi se io ti perdono tu mi ami ancora ma dimmi se io ti tendo le braccia tu vi accorri ma dimmi hai sete dell'amore buono e allora vieni e rinasci torna nei pascoli santi piangi il tuo col mio pianto levano le tracce del tuo peccato ed io per nutrirti poiché sei consumato dal mare che ti arza mi apro il petto le vene mi apro e ti dico pasciti ma vivi vieni che ti prendo sulle braccia andremo più solleciti ai pascoli santi e sicuri tutto dimenticherai di quest'ora disperata e le 99 sorelle le buone giubileranno per il tuo ritorno perché io te lo dico mia piccarella smarrita che ho cercato venendo da tanto lontano che ho raggiunto che ho salvato si fa più festa fra i buoni per uno smarrito che torna che non per 99 giusti che mai si sono lontanati da lui Gesù non si è mai voltato vedete a guardare sulla via che ha alle spalle e sulla quale è sopraggiunta fra le preombe della sera Maria di Magdala ancora elegantissima ma vestita almeno e ricoperta da un velo oscuro che ne confonde i tratti e le forme ma quando Gesù parla dal punto io ti ho trovata diretta Maria porta le mani sotto al velo e piange piano e continuamente la gente non la vede perché ella è al di qua dell'argine che borda la via la vede solo la luna ormai alta e lo spirito di Gesù allora qui c'è soltanto da notare infinita dolcezza bontà e misericordia attenzione del Signore l'ho detto nella pratica di oggi parlando del del profeta la ragione della sua missione a Nidio vedete adesso Gesù tira fuori questo linguaggio se noi confrontiamo questo con quello che disse la prima volta vi ricordate sulla sua barca Dio non è con gli impuri e lei fece quella di Sataccia oppure quello che ha detto suonandola quando l'ho trovata in casa di adulterio quindi la pratica che ha fatto oggi dice prima c'è la severità dopo c'è la dolcezza poi immaginatevi se a una come Maria di Magdala la prima cosa che gli fosse andare a dire al nostro Signore fosse stata questa roba qui non ha avuto nessun effetto perché queste cose qui vanno dette quando il peccatore già c'è quasi arrivato quindi ha preso coscienza anche in maniera sta lottando e l'unica cosa che pensa è come lei ha detto dice no per me ormai c'è tutto quello che ho fatto è la fine è lì che interviene no non è la fine tutto quello che è successo è perché io ti ho trovata vieni io mi sveno dimenticati adesso è il momento di parlare in questo modo e come parla Gesù in questo modo non lo fa nessuno i grandi sacerdoti erano così nella predica e nelle prediche erano molto severi in confessionale l'immagine stessa della dolcezza non può essere invertita questa cosa qui sarebbe 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 un disastro deve essere così qual è il grande male del nostro tempo se mi posso permettere è che la prima parte è completamente bypassata oggi si parla soltanto della seconda che per carità c'è ma voi sapete che in termini l'etimologia del termine eresia viene dal greco airesis aero significa scegliere cioè l'eresia è una scelta unilaterale parziale vede soltanto una parte della verità non qua non anche l'altra guardate Martino Lutero sola fede la sola fede eh no ci vogliono anche le opere la sola fede eh no c'è anche la ragione la differenza che c'è no nell'ambito cattolico quando ancora si poteva parlare di ambito cattolico queste cose sono state sempre curate sempre insegnate sempre mantenute perché abbiamo preso l'esempio da nostro Signore Domine Dio nella predica di oggi tanto mancano due minuti sta già online perché sta seguendo la dire dicevo ma scusate no John è andato dai individui dai pagani Michele dice allora vi devo annunciare la divina misericordia perché guardate pentitevi dei vostri peccati perché Dio buono vi aspetta braccio aperto per perdonare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta fine della predica insomma peggio di così ma l'antico testamento com'era rispetto al nuovo Giovanni Battista com'era rispetto a Gesù chi è venuto prima l'antico testamento rispetto al nuovo Giovanni Battista rispetto a Gesù perché perché deve essere così perché come hanno insegnato i grandi maestri di spirito tu un peccatore lo devi colpire se no non si converte non si converte blandendolo quella è una persona che sta nelle mani di Satana gli devi svegliare la coscienza e a volte la coscienza si sveglia con un cazzotto nello stomaco glielo devi dare ma perché gli vuoi bene lascia che altri pensino troppo severo è troppo rigido è cattivo è medievale che sono questi che sono questi modi lascia non fa niente io posso testimonare posso assicurare che sta cosa funziona perché qui bisogna tutti quanti alla parabola della pecorella smarrita e poi al dopo ovviamente ci sarà anche un dopo che vedremo dalla prossima volta Gesù è un campione di velicarezza però notiamo l'ultimissima cosa non ha mai guardato verso Maria Di Magda per non imbarazzarla le cose che diceva voleva che ricapisse come dette per lei ma gli atteggiamenti del suo volto la sua postura del suo sguardo sono stati differenti questa è una grandissima lezione specialmente per noi poveri suoi ministri impegnati del ministero della predicazione bene amici possiamo chiudere qui ci vediamo alla prossima che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti